buongiorno benvenuti alla segna stampa di oggi 19 ottobre allora intanto vi ricordo come sempre perché questo fa parte del dna ormai di questa nostra zuppa di porro gli appuntamenti questa sera alle 19 radio 105 105 matrix quindi in diretta potete partecipare molti di voi questo mi ha reso veramente felice sono transitati sulla radio molti di voi ci chiamano ci telefonano a matrix 105 e questo da un passo in più alla nostra interazione qualcuno mi chiede smetterai di fare questa zuppa mai quello che posso dire qua non lo posso dire da nessun'altra parte voi lo sapete e così oggi apro la nostra zuppa di porro su una cosa un po diversa rispetto al solito e non riguarda tanto i giornali ma quello anzi riguarda anche i giornali ma quell'universo mondo della correttezza politica per la quale noi dobbiamo stare attenti a dire donna islamico zingaro fondamentalista terrorista maschio gay non gay lesbica non avete capito perfettamente qual è non solo il linguaggio il genere tutto ma bisogna stare attenti bene e i campioni di questa attenzione sono e ovviamente in italia la boldrini e una certa parte della sinistra e negli stati uniti le felpette di nella silicon valley lei stesse che licenziano google licenzia un suo dipendente perché viene considerato omofobo in una chat interna in cui dice che ci sono differenze tra uomo e donna da un punto di vista biologico tutto questo qui potto iniziale per dirvi che su amazon per la festa di halloween di cui tra l'altro io sarò politicamente scorretto ma non me ne fotte nulla halloween non è italiana a me non me preferisco la sagra della porchetta ad halloween però purtroppo i nostri figli hanno halloween e dobbiamo subire halloween amazon amazon il più grande supermercato mondiale quello che ci fa due palle così se le recensioni non sono secondo loro politicamente corrette non politicamente corrette sono un po orientate che ha avuto molta polemica perché ha censurato molte recensioni considerate negative il libro orrendo di della clinton bene cosa vende amazon per circa 15 euro vende il vestito della deportata della ragazza evacuata deportata durante la seconda guerra mondiale il vestito per le nostre ragazzine di anna frank cioè dell'ebrea sterminata nei campi nazisti cioè si può vendere il costume di delle bambine bambine poi lo vedete col cappelletto con questa posa orrenda poi ci rompono ci rompono a noi a noi sul sul corpo delle donne e voi vedete queste bambine age 10 12 tra 10 e 12 anni con non solo il vestito di anna frank deportata o degli ebrei deportati nei campi di concentramento ma con le pose un po no carinette un po ammiccanti ammiccanti a 10 12 anni vi rendete conto andate a vedere sniffis world war e va qui girl costume e c'è dress hat and bag age cioè l'età tra i 10 e 12 anni della appunto smithi smi ff york e i vestiti di questa azienda veda viola venduti ecco brava francesca e fiano che dice adesso ma non è tanto fiano chi se ne frega di fiano non fiano devo dire ma quello che credo è che tutti possono commettere un errore ma se lo commettono loro è un errore se lo commettiamo noi siamo dei pericolosi razzisti la boldrini oggi un'intervista sentita dice ora asia non è il momento di arrendersi devi restare in italia come dicono quelli di sinistra che parlano in maniera orrenda anche no chi se ne frega cioè proprio non ce ne vuoi portare di meno se rimane in italia non rimane in italia o se c'è mai stata in italia e quello che io mi ricordo è che quando lei passa per i ristoranti italiani cosa di cui ci dimentichiamo è che io ho detto fotografa il back il la schiena lardosa di chi ha appena partorito può anche non rimanere in italia possiamo anche fare una campagna come vorrei fare io a favore della meloni che è stata violentata psicologicamente da una foto orrenda fatta da asia argento va bene oggi per una volta condivido gramellini anche perché era il tema che ho affrontato ieri sera matrix e cioè il fatto che se c'è un bambino in una scuola di 20 ragazzi di stranieri dice gramellini possono anche essere in italia ma quella si tratta si trova ed è una pecora bianca castellitto divertente oggi un'intervista che devo dire che è un po confusionario castellitto non è chiarissimo nelle sue analisi però dice una cosa che mi sembra di aver capito agli oscar va un film buonista che si occupa dell'accoglienza mi sembra neanche mi ricordo che cos'è vero uno di quei film buonisti e invece i miei film che sono fatti per il pubblico non ci vanno non so se sui film siano fatti proprio per il pubblico però insomma la battuta di castellitto che non è certo un uomo di diciamo un conservatore mi sembra interessante con così come la sua intervista molto meno interessante è claudio ceraso un bravo giornalista cercato di come possiamo dire intervistare la gabanelli che dice non mi prendere a schiaffoni voi mi prendete sempre a schiaffoni però inizia a parlare nella prima pagina del foglio del suo progetto sull'accoglienza e sull'immigrazione della terra al punto in cui dice mi ha chiamato minnitti e si è detto interessato basta 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 mi spiace per il foglio per cerasa ma è uno dei pezzi che non vale la pena di continuare a leggere però magari mi sbaglio perché dopo arriva la parte più interessante che l'unica che mi interessa che una giornalista della rai che è stata fatta fuori dalla rai sostanzialmente in maniera come fanno la rai molto equivoca era diventante leggere l'ultima notizia quella vera di oggi è la questione la questione di visco che sapete che nasce da una mozione del pd che vuole che visco e che impegna il governo che dovrà eleggere nominare il 31 ottobre il successore di visco impegna una discontinuità poi è stata un po come posso dire un po addolcita questa mozione e visco risponde dicendo che si presenta in quella farsa che la commissione sulle banche voi mi dovete spiegare la commissione presieduta da casini vice presieduta da brunetta con tutto il rispetto di casini e di brunetta in tre mesi secondo loro possono risolvere il problema della commissione di inchiesta sulla banca una presa per i fondelli ma bella enorme enorme presa per i fondelli in questa commissione visco dopo la mozione detto mi presenterò e darò le 4000 pagine del di quello che è successo sul sistema bancario italiano allora delle due luna o lui sa qualche cosa che oggi ci spiega e allora dove andare forse dai magistrati oppure queste 4000 pagine sono il solito fumo nell'occhio negli occhi burocratici in cui si dice tutto il contrario di tutto e in cui non si capirà effettivamente come il sistema bancario italiano ha reagito alla grande crisi bancaria che ha colpito tutta europa un'idea di fondo che uno ha e cioè che la vigilanza italiana non sia stata così sollecita o meglio abbia coperto in maniera non truffaldina penso ma in maniera corporativa il sistema bancario italiano io ce l'ho e quindi l'idea che un partito politico possa dire guardate lo nominate voi però abbiate pazienza forse è il caso di cambiare visco forse non mi sembra uno di quegli attentati alla democrazia di cui oggi tutti parlano stefano feltri sul fatto quotidiano dice in effetti ha ragione renzi a chiederlo ma lo fa per per i motivi sbagliati perché lui attribuisce a visco tutte le responsabilità mentre sostiene feltri stefano sul fatto le responsabilità sono molto più della camarilla del pd su mps banca etruria beh ovviamente pd qualche responsabilità personale di politici locali ce l'ha e come ma le due cose non sono in conflitto il punto sostanziale è che se il pd aveva responsabilità sulle banche e il governatore della banca d'italia non aveva mai vigilato a sufficienza un problema ci sarà con questo governatore non ce l'ho convisco che sicuramente una persona per bene un forte discontinuità però nella vigilanza delle banche italiane forse converrebbe farla un'altra questione che io non ho letto sui giornali perché ci sono generalmente moltissime critiche nei confronti della mozione del pd e si dice che quella mozione del pd è stata fatta dalla boschi che è amica di renzi all'insaputa del presidente del consiglio gentiloni che quella roba non avrebbe voluta fare bene una delle questioni che mi chiedo e vi chiedo se il pd non avesse fatto la mozione ma con la sua influenza posto che il governo fino a prova contare del pd avesse fatto fuori visco cosa che è nelle sue facoltà del presidente del consiglio cambiare il governatore della banca d'italia sarebbe stato meglio no qua con una mozione hanno messo la luce del sole non mi sembra uno scandalo per cui tutti i giornali stanno gridando lo scandalo alla luce del sole dice visco non ci piace è evidente che lo fa per motivi elettorali è evidente che gli vogliono vuole ricordare vuole pulirsi la sua cattiva coscienza ma questo non toglie che se l'avesse fatto fuori nelle segrete stanze il rischio sull'indipendenza della banca d'italia sarebbe stato molto superiore mentre oggi siamo sicuri che visco è protetto al 100 per cento e la banca d'italia lo è altrettanto perché questa mostra certamente elettorale ma giusta rende palese il fatto che si voglia cambiare visco bene sallusti se la prende sulla parte diciamo un po' simile a quella di stefano feltri del fatto dice pensi a monte dei paschi di siena e a banca popolare dell'etruia che sono i due buboni che il nostro amico renzi dice sallusti deve riuscire a risolvere ragazzi ci vediamo questa sera a radio 105 105 matrix alle 19 con greta mauro alle 19 in diretta ciao ciao